Aurora e Eros Ramazzotti insieme, il dolce di sveglio Eros Ramazzotti con sua figlia Aurora Ramazzotti, il video su Instagram. Il cantante Eros Ramazzotti ha pubblicato qualche ora fa un video con protagonista la figlia Aurora Ramazzotti, che ha voluto mostrare a tutti il suo risveglio ideale. La giovane Ramazzotti ha infatti fatto vedere ai fan del padre come ci si può svegliare in perfetta forma con una canzone di Gigi D'Agostino, e muovendo le braccia a tempo di musica. Aurora ha affermato inoltre che quello era il risveglio muscolare ideale per prepararsi al meglio alla giornata, mentre Eros Ramazzotti riprendeva entusiasta la figlia ridendo di gusto. Inoltre, il rapporto speciale non è per nulla cambiato tra di loro, nonostante Aurora trascorra molto più tempo con la madre Michelle. Inoltre era recente un video in cui la piccola Ramazzotti ha voluto far vedere ai suoi followers di aver presenziato ad un concerto del padre, dichiarando che quello per lei era un momento veramente magico. Aurora Ramazzotti in compagnia del padre Eros, il rapporto speciale. In quel video, Eros Ramazzotti stava intonando la canzone Aurora, la quale come sappiamo tutti era stata dedicata alla figlia avuta con la Hunziker. Nonostante siano passati anni e Aurora Ramazzotti sia cresciuta, il rapporto speciale tra i due non si è mai supito, ma anzi, sembrerebbe essersi intensificato, Aurora ha infatti trascorso il weekend a casa del padre e a testimoniarlo è stato un video caricato sul profilo Instagram del cantante, che ha mostrato a tutti il loro dolce risveglio. Aurora Ramazzotti è felicemente fidanzata con Goffredo, e la cosa sembrerebbe essere veramente seria, non solo i due durante questa strana estate sono sempre apparsi insieme, ma lei avrebbe anche presentato il ragazzo al padre, il quale avrebbe approvato la relazione. Eros è invece impegnato dal 2009 con la modella Marica Pellegrinelli, con cui ha avuto una figlia di nome Raffaella Maria. .